Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 122esima puntata del podcast di Marcos Box. Eccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box. Spero abbiate fatto delle buone vacanze, vi siete divertiti, vi siete rilassati, avete mangiato in maniera schifosissima, avete preso quei 70-80 kg. Soprattutto mi riferisco a voi che state qui e che vive dal sud, so che come me quando si tratta di feste si inizia a mangiare come animali da fattoria all'ingrasso e quindi vabbè, si finisce sempre con metter quintali di Kirisu. Vabbè, 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 comunque iniziamo la puntata. Di sicuro, e spero per voi che ve ne siate accorti, perché se in caso contrario avete dei seri problemi di attenzione, di sicuro vi siete accorti del nuovo cambio del design del sito. Qualche giorno fa ho deciso di comprare un tema su Envanto, come si chiama quel sito, un tema per il sito, perché ho deciso di fare il cambio del tema? Semplicemente perché il vecchio tema anime era buggato, aveva dei bug assurdi, bug che è meglio che non vi racconto, bug epici, che non si riuscirono a fixare, perché ogni volta fixavo qualche cosa e si sbaglava qualche altra cosa. Ero in attesa della nuova versione del tema che utilizzavo prima, il tema anime, che è fatto da un sviluppatore del Sud America, che però sta tardando davvero tanto nella realizzazione del nuovo tema e quindi ho deciso di, diciamo così, di mettere una pezza momentanea comprando questo nuovo tema, l'ho pagato una sciacchezza, l'ho pagato una quindicina di euro, se non ricordo male, e alcuni di voi sta piacendo. È un tema che molto probabilmente sarà un tema momentaneo, perché non appena il tizio che sviluppava il vecchio tema rilascerà la nuova versione, penso che provvederò a comprare, perché era davvero bravo, aveva delle chicche davvero interessanti, il tema era molto veloce, aveva punteggi molto alti per quanto riguarda la SEO, nonché me ne importi tanto della SEO, se seguite Marcosbox sapete bene che la SEO e Marcosbox sono due cose completamente distinte e separate, però comunque faceva piacere avere un tema, diciamo così, che rispettava i canoni moderni di velocità e quant'altro. Che dire, il nuovo tema lo potete apprezzare sia nella modalità chiara che nella modalità oscura, perché c'è un selettore sopra che vi consente di attivare la dark mode, perché la dark mode piace tanto a tutti voi in ascolto, e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tema, probabilmente nel corso dei giorni anche subirà dei cambiamenti ulteriori, perché lo sto continuando a modificare per farmelo piacere, e lasciate magari un commento sulle pagine di Marcosbox. E dopo questo lunghissimo programma, passiamo alle notizie vere e proprie dal mondo del software libero open source, e lo facciamo aprendo le danze con un articolo a firma di Andrea Paz, lettore di Marcosbox, nonché membro attivo della community Telegram di Marcosbox. A proposito, vi invito a iscrivervi tutti alla community Telegram di Marcosbox, in modo da scambiarvi consigli, trucchi, ma anche per semplicemente cazzeggiare, perché non c'è la regola di parlare soltanto di Linux, perché non si vive soltanto di Linux. Andrei ha pubblicato un articolo dove ci parla di una modifica introdotta con il kernel Linux 5.17, che riguarda i processori AMD più recenti Zen 2 e Zen 3, quindi Ryzen 3000 e Ryzen 5000, che possono contare su un nuovo modulo per la gestione energetica della CPU, che è stato implementato grazie a Valve, che è interessato al risparmio energetico, poi su Steam Deck, che sapete bene è un hardware basato su AMD con una CPU custom, e che quindi, grazie al lavoro di Valve, queste modifiche sono finite nel kernel 5.17, quindi ne potremo beneficiare tutti quanti. Per maggiori informazioni vi invito a reggere l'articolo, che è molto dettagliato, spiega davvero alcune, molte cose interessanti, e vi spiega anche come abilitare il nuovo Frequency Scaler, e datevi a leggere l'articolo su Marcosbox e lasciate magari un commento. Passiamo adesso al mondo delle distribuzioni Linux, e lo facciamo parlando di Linux Mint. Gli sviluppatori di Linux Mint, o meglio, Clemente Febbra, il suo patron, ha pubblicato un nuovo articolo, quello, il suo consulito post mensile, nel quale ci gusta lo sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon, e ha annunciato alcune novità che vedremo sulla prossima versione di Linux Mint, Linux Mint 21, che avrà come nome in codice Vanessa. Ovviamente sarà basato sulla nuova LTS di casa canonica, quindi Ubuntu 22.04 LTS, e sarà rilasciata nelle tre consulite edizioni Cinnamon Mate X FCE. La novità importante di cui ci ha parlato Clemente Febbra nel suo post riguarda l'arrivo di un nuovo strumento di aggiornamento chiamato Upgrade Tool, quindi tanta fantasia nel nome. Che cosa fa questo strumento di aggiornamento? È uno strumento di aggiornamento pensato per fare gli avanzamenti di base, da una LTS all'altra praticamente. Sapete bene che sul nuovo ciclo di sviluppo di Linux Mint, ultimamente, nel corso degli ultimi anni, si basa con una nuova versione principale ogni due anni, seguita poi da 3.3 release. Gli aggiornamenti 3.3 release sono molto semplici, quelli tra una versione e l'altra sono un po' più complicati, e questo strumento ci viene incontro. È uno strumento totalmente grafico, senza riga di comando, è localizzato, anche se la prima versione è soltanto in lingua inglese, esegue più controlli per assicurarsi che tutto sia apposto, ad esempio controlli che il nostro portatile si è collegato alla corrente, che ci sia abbastanza spazio libero per scaricare i pacchetti, è configurabile, ci consente di deserabilitare di alcuni requisiti, come la presenza di uno snapshot e di timeshift, conserva la nostra scelta dei mirror, non ci obbliga a rimuovere i nostri repository personalizzati, quindi i nostri PPA aggiuntivi, ci avvisa, ma ci consente di mantenere i pacchetti orfani, e fornisce e gestisce soluzioni per la maggior parte dei problemi rilevanti, insieme alla spiegazione, ti spiega come risolvere il problema. Attualmente questo strumento, l'upgrade tool, è in testing, è possibile testare la versione beta, sull'altra distribuzione di casa Linux Mint, ovvero su Linux Mint Debian Edition, quindi i più coraggiosi di voi, che vogliono fare l'aggiornamento tra Linux Mint Debian Edition 4, Linux Mint Debian Edition 5, possono provare l'upgrade tool, su Marcos Box, ho pubblicato un articolo che spiega come installarlo, come lanciarlo e eventuali problemi. Vi ricordo come sempre che è uno strumento ancora in forma beta, che il team di Linux Mint intende rendere stabile, in concomitanza con il rilascio della nuova versione, quindi con Linux Mint 21, potete testare, ovviamente se lo testate su Linux Mint Debian Edition, perché adesso è disponibile solo lì, se trovate dei bug, segnalateli in modo tale da poter contribuire a risolverli e rendere la vita semplice a coloro che verranno successivamente. Parlando ancora di nuovi tool che si stanno sviluppando, parliamo di Anaconda, che si appresta a cambiare pelle. Scusate la battutaccia che ho fatto anche all'interno del titolo dell'articolo postato su Marcos Box, Anaconda sapete che cos'è l'installer grafico di Fedora, quell'installer che fa tremare praticamente grandi e piccini. Alzi la mano, chi non ha mai sudato freddo la prima volta che si è trovato a installare Fedora, specie in dual boot con un altro sistema, e quei fatidici momenti, dicevano, ho formattato la partizione giusta, ho fatto casino, e molte volte all'inizio si fanno casini. Non ve li dico quanti ne ho fatti, ne ho fatti anche recentemente, qualche giorno fa, ma questo è un altro discorso. Sapete, anche gli sviluppatori di Fedora si sono resi conto che Anaconda non è propriamente intuitivo, e che cosa hanno deciso? Hanno deciso di prendere la palla al balzo, di rimettere mano al programma, rimettere mano al tour, e ci sarà una nuova versione di Anaconda, che sarà più semplice da utilizzare, perché avrà una procedura guidata che ci aiuterà a scomporre i compiti, altrimenti i complessi, in una serie di piccoli passaggi, e piccoli e semplici passaggi, quindi diventerà un installer moderno, come Ubiquiti, o come altri installer, che ci sono su altre distribuzioni più mainstream, installer che ci assistono durante il processo di installazione, e ci evitano di fare cavolate. Speriamo arrivi presto, presto informa stabile, andategli a dare un'occhiata, perché c'è stata anche pubblicata una prima bozza del nuovo installer, quindi giusto per farvi capire un po' la grafica com'è, anche perché, Fedora, diciamolo, è una di quelle distribuzioni che merita di essere installata, almeno una volta nella vita. Una volta. Prima di passare alla notizia cicciosa, quella più importante di questa settimana, sto scherzando, però è effettivamente l'evento più atteso dell'anno, parliamo di un browser web, parliamo di DuckDuckGo, che ha presentato la versione desktop, meglio, la prima beta della versione desktop di DuckDuckGo per Mac. Ve ne avevo parlato lo scorso 21 dicembre, dall'intenzione degli eserciopatori di DuckDuckGo, di rilasciare un browser web desktop incentrato sulla privacy, quindi alla stregua della versione mobile che troviamo su Android. Ora, dopo circa 4 mesi di attesa, la versione beta di DuckDuckGo desktop per Mac è disponibile al download seppur tramite invito. Vi dovete pre-registrare tramite l'applicazione mobile, quindi DuckDuckGo per iOS oppure per Android. non temete se siete utenti Windows, la versione per Windows arriverà a breve, la versione per Linux non si sa perché ci sono voci discordanti, dobbiamo vedere che cosa decidono di fare. Io spero che arrivi una versione anche per Linux, soprattutto perché sono curioso di vedere su quale motore di rendering si baseranno, perché la particolarità della versione desktop di DuckDuckGo è quella di basarsi sui motori di rendering già esistenti, presenti sui sistemi operativi. È un po' una paraculaggine questa qui. Non si basano su Chromium, a detta loro, ma si baseranno sui vari motori di rendering presenti sui vari sistemi operativi. Questo che cosa significa? Che ad esempio la versione la versione desktop DuckDuckGo per Mac utilizza il motore di rendering utilizzato da Safari. Quali sono poi le particolarità di questo browser? Beh, è incentrato sulla privacy per impostazione predefinita, perché integra un tracker broker, quindi un blocco dei tracking, la protezione dei pop-up dei cookie, che attualmente è su circa il 50% dei siti, un percentuale che comunque è destinata ad aumentare. Troviamo anche nella versione desktop il fire button, quindi quel pulsante che troviamo sulla versione mobile, che ci premiamo su, fa quell'animazione fantastica che brucia tutto, che va a cancellare con un clic solo i dati di navigazione e quant'altro, cosa che comunque è possibile anche su Firefox Focus. Troviamo poi la protezione della mic e altro ancora. Quindi, che cosa pensano di fare gli sviluppatori di DuckDuckGo è dare un browser semplice, pochi franzoli, pochi settaggi, tutti i settaggi, tutte le cose preimpostate dedicate a aumentare la sicurezza e la privacy degli utenti e sapete bene che cosa succede anche quando si vanno a implementare tecnologie che vanno a bloccare tracker e quant'altro. Ad esempio, i tracker vengono bloccati prima che vengono caricati, a differenza di tutti quanti gli atti principali browser. Questo fattore, assieme agli altri, assieme anche alla protezione di pop-up e quant'altro, contribuisce a migliorare anche la velocità di navigazione. Stando ai test effettuati da DuckDuckGo per Mac, questa prima beta risulta più veloce di Google Chrome su alcune prestazioni grafiche, quindi con alcuni benchmark sintetici. E come ulteriore vantaggio rispetto a Google Chrome e bloccando i tracker, DuckDuckGo utilizza anche circa il 60% di dati in meno rispetto a Google Chrome. Offre poi una crottografia intelligente integrata e altre cose che poi verranno aggiunte mano a mano. Speriamo che arrivi presto, speriamo che arrivi anche una versione per Linux in modo da poter testare. Anche su T-Mend c'è da fare una piccola tirata d'orecchia a DuckDuckGo perché si è comportato un po' male con i risultati di ricerca. Sono stati rimossi alcuni siti di torrent e quant'altro dagli risultati di ricerca. Loro hanno dato la colpa a Bing perché si poggiano su Bing ma vedremo poi nelle prossime settimane come si evolverà la situazione. E adesso passiamo alla notizia che tutti quanti volete sentirmi commentare ovvero il rilascio di Ubuntu 22.04 LTS nome in codice Jamie Jellyfish che è finalmente disponibile a Doggo assieme ai suoi flavors ufficiali quindi le varie incarnazioni di Ubuntu mantenute dalla comunità con desktop environment differente. Avete sentito come ho detto bene questa volta quindi non mi potete più dire che pronuncio male la parola. Quindi desktop environment con KDE XFCE MATE e quant'altro. Qual è la novità principale di questa nuova versione di Ubuntu l'edizione principale? Beh ovviamente l'arrivo della nuova versione di Gnome Gnome 42 però nel consulito mix di pacchetti di casa canonica quindi alcuni pacchetti sono stati mantenuti in versioni precedenti lo sapete è ormai una feature di Ubuntu Gnome 42 adesso utilizza per impostazione predefinita la sessione Wigand con i driver proprietari Nvidia quindi anche i driver proprietari Nvidia lo troverete Wigand bestemirete come me la prima volta che avvierete la distro con i driver proprietari quando vi renderete conto che ci sono ancora alcuni bank tipo la possibilità di estrarre direttamente con drag and drop all'interno di Nutrius gli archivi queste sono cose che Wigand se le porta avanti abbiamo poi la grande novità quella visiva quella che colpisce subito ovvero del nuovo tema GTK predefinito con l'aggiunta del supporto agli accenti ve ne avevo parlato qualche settimana fa vi avevo fatto anche una video anteprima nella quale vi illustrarò le novità grafiche di questa nuova versione di Ubuntu tra parere se troviamo anche il nuovo logo di Ubuntu alla giapponese maniera quindi con la cosa rettangolare grande novità che fa storcere il naso a molti di voi è l'arrivo di Firefox che adesso viene rilasciato soltanto in formato Snap se andate installare Ubuntu vi accorgerete subito che il pacchetto di Firefox non è altro che un metapacchetto che fa reinstallare quindi la versione Snap quindi non ci sono scappato vi dovete utilizzare la versione Snap di Firefox che è bellissima perché ci consente di avere un'esperienza più pura di Firefox ci consente di avere aggiornamenti più veloci però mi rendo conto che causa problemi perché è lento ad avviarsi e questa poi è una cosa che non ho mai capito cioè Firefox è sempre più lento ad avviarsi in formato Snap rispetto che ne so ad altri applicativi sempre in formato Snap come Blender Blender lo trovo molto più veloce di di Firefox Gimp lo trovo molto più veloce di Firefox è così complesso Firefox da fare in formato Snap o forse perché le prime armi ancora non si sono impegnati nel render più scattante comunque diciamo Firefox adesso viene rilasciato soltanto in formato Snap troviamo il kernel Linux 5.15 RTS con alcune patch per i processori più recenti Intel che sono state backportate abbiamo Mesa 22.0 GCC 11.2 System di OMD che ci consente di miglioramenti in situazioni di memoria insufficiente e supporto RDP su Marcosbox trovate il link per poterlo scaricare e trovate altresì il consueto anzi la consueta guida post installazione nella quale vi do una serie di suggerimenti per completare la vostra installazione di Ubuntu mi raccomando fate come i primi commenti che sono arrivati siate propositivi se avete delle modifiche da suggerire delle aggiunte e quant'altro ditemele condividetelo all'interno dei commenti che aggiungerò alla guida post installazione in modo da renderla più completa e più completa possibile quindi dagli dei sotto con i contributi ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 122esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo di iscrivervi ai vari canali social di Marcosbox iscrivetevi soprattutto ai canali telegram quindi abbiamo il canale principale dove ci sono le notizie abbiamo il canale o meglio raccomunti dedicata ai lettori di Marcosbox nella quale potete parlare scambiare chiacchiere e quant'altro abbiamo poi il canale dedicato alle offerte Amazon quindi acquistando prodotti da Amazon con il mio link referral oppure se volete potete utilizzare anche il mio codice referral Marcosbox trattino 21 lo trovate anche sulle pagine di Marcosbox indicato ogni qualvolta voi acquistate un prodotto su Amazon utilizzato il mio link referral o il mio codice referral una certa percentuale mi avverrà riconosciuta la parte di Amazon che potrò utilizzare per buoni buoni Amazon per poter sopperire anche alle sfighe informatiche che mi sono capitate negli ultimi mesi e che mi hanno costretto a cambiare tantissimi pezzi di computer e fra poco già lo so cos'è il tuo orecchio e orecchio ci sarà un altro componente che mi abbandonerà vi invito comunque nuovamente a seguirmi sui social ripeto seguitemi anche tramite i feed sono uno dei pochi siti che continuo a mettere i feed rss buonanotte rss quando è s? ho detto prima non lo so ho detto e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo forse la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box ciao ciao